ciao amici il caldo è alle porte è giunto il momento di rimettersi in forma sì anche perché io con questi rotolini non esco proprio e vediamo come scioglierli allora siamo stati chiusi in casa per molto e ci siamo mossi poco ora bisogna rimediare con un'alimentazione sana e il giusto esercizio vedrete subito degli ottimi risultati vediamo allora insieme 11 alimenti per far sparire i fastidiosi rotolini sulla pancia se vi piace l'idea mettete mi piace e arrivate fino alla fine del video c'è un regalino per voi 1 salmone il salmone il pesce azzurro per eccellenza ricco di omega 3 ovvero grassi sani e di prostaglandine favorisce il benessere e il dimagrimento 2 yogurt greco perfetto per fare spuntini sazia molto è ricco di proteine e a poche calorie si può aggiungere a frutta avena frutta secca per ottenere un ottimo snack salutista 3 semi di lino sono un'ottima alternativa vegetale per fare il pieno di omega 3 6 e 9 non dimenticate di frullarli prima di aggiungerli ai vostri piatti perché il guscio si deve rompere 4 frutti rossi sono poveri di zuccheri ma ricchi di antiossidanti perfetti come dessert dietetico aiutano a diminuire il gonfiore addominale in particolare i mirtilli considerati un vero superfood 5 uova le uova se consumate con moderazione sono un ottimo alimento sono ricche di aminoacidi essenziali saziano e sono un valido spuntino spezza fame si possono mangiare anche per colazione meglio sode o in camicia piuttosto che fritte 6 curry ricco di sostanze come la curcumina aiuta a diminuire il gonfiore e la ritenzione idrica è ideale per insaporire i piatti caldi o le salse 7 frutta secca la frutta secca e calorica ma contiene grassi sani che come quelli del pesce favoriscono la perdita di peso e aiutano a diminuire il gonfiore regolano la glicemia e sono un ottimo spuntino spezza fame mangiatene un pugnetto al giorno e combinate tra loro i vari tipi di frutta secca 8 tè verde è la bevanda brucia grassi per eccellenza ottima anche contro la ritenzione idrica bevetene diverse tazze al giorno freddo caldo e sempre senza zucchero 9 soia la soia è ricca di proteine antiossidanti e fibre si trova nei negozi di prodotti naturali in varie forme come semi bacelli freschi chiamati edamame burger tofu tempeh il latte di soia è un'ottima alternativa a quello vaccino per gli intolleranti al lattosio 10 cereali integrali i cereali integrali non fanno ingrassare e saziano di più di quelli raffinati sono ricchi di fibre favoriscono la digestione e il transito intestinale 11 mela è un alimento ricco di fibre e pectina e per questo un ottimo brucia grassi riduce la fame e sazia molto è ottima come spuntino pre e post workout bene amici oggi abbiamo visto 11 alimenti efficaci per eliminare i rotolini commentate se vi è piaciuto il video condividetelo iscrivetevi al canale e attivate tutte le notifiche ed ecco il mio regalino per voi ho preparato un semplice programma detox dimagrante che potete scaricare gratis dal link in descrizione qui sotto vivi consapevole e vivi meglio con il sistema di salute naturale di simona vignali